Buongiorno, io sono Anselmo, il giardiniere. Ah, piacere. Anselmo, ci hanno parlato tanto bene di te, sano, forte, robusto, lavoratore, bravo, bravo. Voi siete il nuovo maggior duomo. Il nome è strano, come si dice? Finderogeno. Diogene, Anselmo, eh? Mi chiamo Diogene. E questa è Carlotta, la nuova cuota. Ti piace? Cazzo se mi piace. Tiene certe montagne. Ah, che spiritosa, eh? Spiritosa, Anselmo, che belle banane, grosse, carnose. Vi piacciono? Le banane mi fanno un pazzire. Prego, tenete. Grazie, dammene due, vuol dire che una la mangio. Ah. Grazie, allora ci si vede più tardi. Addio, Anselmino, ciao. Hai capito? Ho capito.